boker serie upper grit firebun questo è il modello edc con lama da 5 pollici e mezzo il fodero è in pelle nero questo è regolato la manicatura è in micarta canvas micarta il modello è single edge come vedete lo spessore è circa 5mm si impugna come gli altri abbastanza bene solo che questo è la manicatura più corta ed è un po più particolare l'accelo utilizzato è sempre il 440 c ha una specie di falso controfilo ma proprio appena accennato sulla punta sopra risulta quasi tutto allo stesso spessore fino quasi alla fine è un modello boot diciamo anche la stivale edc è più piccolo è abbastanza pratico come modello si impugna bene come gli altri logicamente le dimensioni minori lo rendono più pratico nell'utilizzo inoltre essendo single edge non ci sono restrizioni per le leggi italiane la micarta è abbastanza bella riporta poi la forma proprio dell'originale con queste designature che aumentano la presa la guardia è in metallo nera questa volta c'è un numero scritto davvero un bel pezzo per chi piacciono queste serie di fighter buonger appliquez fai e banna